Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Come vedete dall'immagine qua di fianco, che è un banner ufficiale di Electronic Arts, comparso su Xbox e a breve arriverà probabilmente anche su PlayStation, e probabilmente sarà tra un po' ufficializzato direttamente dagli A-Sports stessa, per tutti coloro che giocheranno a Ultimate Team su FC24 entro e non oltre il primo novembre, e presumo che sia primo novembre compreso, però aspettiamo ufficialità, otterremo una carta di Holland omaggio, versione 87. Attenzione però che la carta sarà consegnata il 10 di dicembre. Lo scorso anno ci fu un regalo simile e ricevevamo un pacchetto ambasciatori, quindi ricevevamo una carta che poteva essere casuale fra i vari ambasciatori, tra cui c'erano ad esempio giocatori come Vinicius, giocatori come Mbappé e giocatori più scarsi. Vedremo se questo è un Holland garantito o un pacchetto con tanti ambasciatori. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere nei commenti se è una carta che utilizzereste oppure no.